Buonasera, grazie sempre a tutti quelli che siete qui perché è ovvio che noi teniamo tantissimi a questi incontri e quindi vedervi qui così attenti e così interessati a questo nostro ciclo perché tutti i nostri incontri curati da Monica Caroetti con questo bellissimo titolo Costruire comunità sono per noi ugualmente importanti perché noi crediamo molto nella sequenza anche di questi incontri perché questi incontri ci daranno poi alla fine, speriamo, un risultato che potrà essere ancora una volta un discorso corale e di comunità. Però qui sono molto felice di presentare Nicol Forti che io e Monica abbiamo conosciuto alcuni anni fa e subito siamo rimaste particolarmente colpite dal suo lavoro di grandissimo interesse e di grandissima forza perché ha immesso nelle collezioni che voi sapete già immense, importantissime dei musei vaticani questa sezione di arte contemporanea che prima era sicuramente già presente con molte opere di grande importanza però dando a queste opere un percorso unitario, un percorso che rappresentava un avvicinamento anche alle tematiche più contemporanee, più sperimentali, non farò nomi perché questo è il discorso che ci farà lei ma ancora di più voglio sottolineare quanto oltre a presentare questo lavoro importantissimo che Nicol fa al museo di cui dirige la sezione contemporanea quello che per noi è importante è capire proprio in questa serie di dialoghi che Monica sta conducendo come questo discorso si inserisce nella nostra, io la dico nostra anche se è di Monica perché è nostra perché noi speriamo molto che il museo oggi è sempre di più divenga un luogo di inclusione, di accoglienza ma soprattutto di proposizioni, di modi nuovi di stare insieme e di proporre nuove istanze vi ringrazio tutti e ringrazio Monica e Nicol con moltissimo Buonasera a tutti, io come sempre mi alzo per fare omaggio e onore a voi che siete qui nonostante il freddo, nonostante il traffico, nonostante Napoli, nonostante tutto e niente, siamo al terzo ciclo di questi incontri e gli ospiti di Costruire Comunità sono delle persone per me straordinarie, nell'ordinario che tessono i fili dello stare insieme, del bel stare insieme, quindi ognuno di loro in realtà ci dà delle perle, delle perle preziosissime e l'ultimo incontro, la parola chiave di Pejman è stata sinestesia, cioè il mettere insieme cose diverse per fare ricchezza e detto da lui che è un artista poliedrico iraniano ha ancora più valore in quanto in Iran, come ormai sappiamo bene addirittura non si possono neanche mostrare in pubblico o alla televisione o al cinema o quello che è strumenti musicali quindi detto da Pejman è ancora più forte questa cosa che la diversità delle etnie e delle culture è una ricchezza e il titolo di questo nostro incontro è Il filo di Arianna e ci tengo moltissimo a questo titolo perché in realtà mette insieme due donne, Maria Lai e Arianna Maria Lai è Il filo e questo è un lavoro appunto di Maria Lai che ha un titolo bellissimo come tutti i titoli delle opere di Maria Lai si chiama Filo di voce di pianto ed è il filo, cioè la tessitura perché il tessere che è un'arte prettamente femminile mette insieme diversità di nuovo ma è anche una cosa molto bella perché i libri di Maria sono dei libri non scritti, cioè sono libri senza parole quindi sono libri dove ognuno mette le proprie parole e mettendo le proprie parole entra in dialogo con l'altro e questa cosa mi ricorda tra l'altro delle parole che ha pronunciato José Tolentino Mendoza che è il nuovo preseffetto di Castero della Cultura e, ahimè, ma lo spiegheremo dopo, dell'educazione che ha detto che la biblioteca è come una macchina per fare domande e io aggiungo esattamente come una collezione d'arte cioè che le collezioni, le opere d'arte non sono delle cose che ti danno delle risposte fisse che sono una verità ma sono invece una cosa, una richiesta, un chiedersi essenzialmente l'altra donna del titolo è Arianna, un'altra donna secondo me straordinaria di cui poi ci parlerà molto meglio di me, Nicole ed è straordinaria perché è una donna che ha subito e agito moltissimi tradimenti i più efferati tradimenti, è una donna che ha una grande autonomia rispetto all'uomo ma è anche una persona che ha subito, diciamo, una violenza anche da parte degli uomini quindi riuscendo però a superare nella sua vita tutto è riuscita a superarlo con un senso di cura una delle ultime parti della sua vita è quando lei rinuncia a bere quasi, diciamo, al rischio di morte per innaffiare una pianta e questa pianta poi in realtà è un dio, è Dionisio e Dionisio per questo si innamora di lei e la rende immortale quindi questa donna, che è una donna estremamente fragile nel suo essere nella vita caccia una forza straordinaria quindi sia Maria che Arianna sono donne di femminilità enorme ma molto forti esattamente come la nostra ospite di stasera che è una donna discreta ma capace veramente di aver fatto cose, secondo me, straordinarie vi presento quindi Nicole Forti che è la curatrice della collezione di arte moderna e contemporanea dei musei vaticani che è un museo nel museo ma che ha una particolarità e cioè che la collezione che è curata da Nicole è l'unica collezione viva e poi capiremo perché quindi mi siedo e volevo dire e chiedere anche a Nicole a cui do il benvenuto che la collezione è passata da un primo corpo diciamo di 900 opere alle attuali 9200 opere è iniziata quindi io vorrei chiedere a Nicole questo percorso soprattutto quindi chi, come e soprattutto perché l'ha iniziata il microfono sta qua no, questa è ok, perfetto sei autonoma mi posso ritirare buonasera a tutti grazie di essere qui grazie dell'invito è molto emozionante essere in questo museo così importante che si occupa con tanta competenza con tanto rigore con tanta eleganza anche di promuovere i linguaggi contemporanei la sperimentazione di artisti che fanno parte del nostro tempo e che e che sperimenta tutti i giorni quello che Monica ha appena detto anche a me colpì molto la prima volta che lessi questa questa affermazione del Cardinal Tolentino de Mendoza che prima di diventare cosa è oggi da settembre del 2022 prefetto del nuovo di Castero per la cultura e l'educazione del Vaticano è stato bibliotecario e archivista di Santa Romana Chiesa questa è la dizione è la dizione diciamo corretta e ufficiale cioè era il responsabile della Biblioteca Apostolica Vaticana e dell'Archivio quindi la Biblioteca è un luogo dove si impara a formulare domande è una chiave di lettura e lo possiamo usare come veramente appunto un filo che ci accompagna ricordandoci che la cultura il pensiero la creazione il nostro impegno il nostro impegno intellettuale civile etico morale non è mai come dire ci piacerebbe tanto che fosse raggiungere delle risposte in realtà capiamo che abbiamo raggiunto il cuore se riusciamo a formulare una domanda che non ha ancora una risposta e che quindi ci consente di andare avanti e di procedere dal fatto che questa storia è iniziata con una domanda una domanda di un grandissimo uomo un grandissimo intellettuale e soprattutto un grandissimo pontefice Giovanni Battista Montini che sale al soglio pontificio nel 1963 è aperto il concilio vaticano secondo da pochissimo ma muore come sapete Giovanni XXIII dopo nove mesi dalla salita al pontificato lui convoca in nove mesi sono niente diciamo sta facendo il papa esattamente sta facendo il capo di stato ecco diciamo non sta facendo diciamo un'attività culturale sta facendo un'attività politica universale solo dopo nove mesi lui convoca il mondo dell'arte dell'arte internazionale e li convoca in un luogo simbolo che voi riconoscete bene la Cappella Sistina che tra l'altro questa foto la schiarisce ma vedete bene in che stato erano gli affreschi prima dei grandi restauri erano tutti neri erano tutti grigi si leggeva pochissimo e per fortuna oggi sono restituiti alla loro magnificenza e fa delle domande e fa delle riflessioni con cui chiede scusa le riflessioni sono legate a un fatto la chiesa da troppo tempo non si è occupata del presente occuparsi del presente è un rischio una sfida è qualcosa che non ha risposta e che ci vede però ci deve vedere agenti attivi e protagonisti abbiamo usato arte oleografica di poca qualità e di poca spesa e di questo perdonateci ma poi fa delle domande vogliamo tornare amici vogliamo cercare di capire se esiste un terreno comune e poi lancia un obiettivo un obiettivo concreto perché alla domanda precedente non c'è risposta si cammina insieme si costruisce si fanno degli errori degli inciampi si raggiungono delle straordinarie occasioni la Cappella Sistina è un'immensa sfida aveva 33 anni Michelangelo aveva fatto il Tondo Doni aveva dipinto un'opera pittorica era un grande scultore Giulio II gli dà tutta la volta della Cappella gli dice fai i dodici apostoli e quando lui ti dice santità mi pare un po' poco per questo spazio Giulio II gli dice fa quello che vuoi cioè vi rendete conto la portata di questo rischio fai quello che credi ovviamente ci sono stati lavori consigli progetti iconografici ma sulla volta lui ha lavorato profondamente da solo come sapete bene anche per il giudizio quando poi era però molto più anziano dunque l'obiettivo è quello della sfida e lui lancia questa sfida e però lancia anche un elemento concreto e cioè fatemi costruire nel cuore della Chiesa una collezione che documenti siamo nel 64 le tensioni spirituali di confronto con il mondo con la realtà con le grandi domande che l'uomo si fa sul suo destino sulla concretezza delle nostre vite sulla bellezza del nostro tempo sul nostro impegno le domande che ogni uomo si è sempre fatto documentato dagli artisti di un secolo che ha visto già due guerre che ha visto l'olocausto che ha visto le grandi dittature questo secolo che così potentemente magnificamente ha incarnato le domande le domande che spesso non hanno risposte ma che l'arte che si occupa di bellezza può raggiungere ha i mezzi per farlo perché usa linguaggi che non sono il linguaggio che non è quello della razionalità non è quello della politica ma è altro l'arte la letteratura la musica la danza ovviamente non mi fermo alle arti visive anche se di queste parleremo da questo appuntamento aspetta prima che vai avanti però ci tengo moltissimo a sottolineare una cosa questa cosa che tu stai dicendo che è due cose uno chiamare amici gli artisti amici quindi inverte completamente la posizione della chiesa nei confronti dell'arte cioè che prima era una posizione assolutamente gerarchica invece diventa una posizione vis a vis amici cioè siamo sullo stesso livello e chiediamo le stesse cose cioè una domanda di senso quindi amici cioè siamo sullo stesso livello e chiediamo le stesse cose cioè una domanda di senso quindi Paolo VI imposta la collezione sulla domanda di senso come diceva giustissimamente Micol il che significa non fare catechesi attraverso l'arte perché l'ambiguità tuttora dell'arte ecclesiastica diciamo così se la vogliamo chiamare così che è sbagliato chiamarla così ma per farci capire è che spesso purtroppo l'arte della chiesa diventa un'arte catechetica che deve diciamo esprimere la verità una verità mentre invece all'inizio non era così no no è una cosa fondamentale importantissima che Paolo VI ritiene di dover specificare quando inaugura questa collezione sarà un momento passano solo nove anni siamo il 23 giugno del 1973 quest'anno il 23 giugno del 2023 la nostra collezione compie 50 anni siete tutti invitati sia faremo una mostra adesso vediamo insomma altri eventi sono pensati e sono in elaborazione ma in quella circostanza si tenne un famoso concerto nella cappella Nervi nella cappella Paolina che vedete non ha ancora la resurrezione di Fazzini che venne realizzata dopo era stato messo un arazzo nostro dei musei così a tamponare lo sfondo perché non c'era nulla e perché come tutti gli architetti Nervi non amava le opere d'arte nelle loro architetture quindi ha resistito fino alla fine quando poi ho dovuto accedere ma soprattutto in quella in quella scusate non so sì in quella adesso torno indietro in quella circostanza Paolo VI salutò tutti uno a uno gli artisti collezionisti gli eredi che avevano contribuito a questa realizzazione qui vi ho mostrato solo due foto Manzù e Guttuso che salutano il Papa e in quell'occasione lui scrisse e pronunciò un altro discorso straordinario come quello del 64 i discorsi di Paolo VI sono tutti li trovate anche sui siti sono tutti online sono discorsi ancora densissimi di di visione che devono essere ancora si dovrebbero ancora concretizzare veramente con una capacità di futuro potentissima e lì lui fa delle specifiche molto importanti che rispondono alla domanda di Monica distinguiamo tra arte liturgica cioè arte che deve entrare in una chiesa essere oggetto di preghiera di devozione di intimo dialogo tra il fedele e Dio i santi intercessori la trascendenza quella è un'arte su cui lui non entra in questo contesto ma che ha bisogno di essere rinnovata ripensata a partire da uno dei cruci di Paolo VI che ancora sono cruciali la formazione dei sacerdoti e la loro cultura al contemporaneo altrimenti il dialogo fra il committente e l'artista non sarà mai paritetico e mai reale cosa che è ancora in formazione quello che lui fa nella collezione no è la domanda che tutti gli artisti si sono posti credenti non credenti di formazione cattolica o di altre religioni completamente agnostici l'uomo del novecento si è posto le domande umane che coincidono con le domande in gran parte coincidono con le domande anche religiose ed è proprio in questo attenzione per una antropologia dell'uomo che la chiesa sta vivendo dagli anni cinquanta e sulla quale ragiona il concilio Vaticano II che Paolo VI chiuderà nel 1965 l'introduzione di una storia di un'umanità che è fatta di tempo di momenti non è fatta soltanto di una universalità astratta questo l'arte lo incarna lo deve incarnare e lo deve esprimere con assoluta libertà che è l'altra parola chiave dei due discorsi del 64 e del 73 quindi veramente amici ma anche aggiunge voi se siete poeti e profeti sapete dire quello che il discorso razionale non sa dire potete con pochi segni con pochi elementi cogliere l'essenza e dire ciò che nessuno ha ancora visto senza spesso sapere che cos'è neanche voi perché il profeta questo fa dice cose che non gli sono chiare sono nel cuore nella mente nell'immaginazione ma non sono chiare neanche all'autore all'artista eppure quell'opera li custodisce le conserva e visto che l'opera viaggia nel tempo molto più di noi per nostra fortuna nel senso che poi si scambiano si contaminano e continuano a cambiare come dicevi anche prima e questo è uno dei grandissimi privilegi di questa collezione e di questa idea vi faccio vedere gli spazi sono piuttosto ampi ma qui vado veramente velocissima tutto l'appartamento Borgia e tutti gli ambienti sottostanti la cappella Sistina sono a due livelli diversi era tutto un settore che non era musei era palazzi quindi il pontefice non solo costruisce la collezione ma affida nel 73 ai musei vaticani anche tutta una nuova ala dei palazzi pontifici ingrandendo gli spazi aperti aperti al pubblico non vi sto non entro su questi temi è un esatto ma è un incubo nel senso l'appartamento Borgia ha il pinturicchio sopra la testa le cappelle le stanze sotto la Sistina quando io sono arrivata dissi bello qui butto giù i muri poi purtroppo quelli sono i muri che tengono il pavimento della Sistina quindi sono inamovibili cioè è un inferno però questo per dimostrare come Paolo VI tenesse a questa collezione vincola questi spazi che non possono essere che di questa collezione cioè non è possibile modificarne l'uso ne fa un decreto che ancora è attivo a meno che un altro papa non lo modifichi e fa una collezione interessantissima per i nove anni ma io qui proprio viaggio più che veloce scusatemi ma per darvi l'idea della sua non italianità perdonate diciamo il fatto che molto influenzato dalla cultura francese molto influenzato dalla cultura francese tedesca e sudamericana vado proprio veloce qui avete un magnifico Van Gogh realizzato dopo una che è una delle poche opere sacre di Van Gogh e ne fa soltanto tre nella sua vita e tutte le opere di Van Gogh sono copie questa è una copia da un quadro di Delacroix che Van Gogh non ha mai visto in vita sua e che infatti fa girato destro-sinistra perché conosce l'incisione e quindi ce l'ha invertita non lo vedeva perché era una collezione privata della regina di Romania ha un magnifico rilievo di Gauguin Chagall la Germania dove è stato Nunzio lui la conosce molto bene Paolo VI legge e scrive il tedesco e il francese molto bene è un grandissimo cultore di tutta la teoria dell'influing conosce benissimo i testi di Kandinsky di Klee Bauhaus eccetera qui avete due bellissimi un Max Ernest che ora è Milano alla mostra di Max Ernest a Palazzo Reale e un magnifico Dix di Dix abbiamo delle opere bellissime questo ve lo mostro non solo perché uno dei della serie dei sei Velázquez a figura intera ma perché è un dono di Gianni Agnelli per ricordare anche l'ampiezza dei doni che ci sono stati all'epoca di Dalini abbiamo una bellissima collezione citavamo prima la collezione dei messicani ma non solo comunque degli artisti del Nord America Centro America e Sud America la collezione degli artisti messicani tutti politicamente molto impegnati di Sicheros quel Cristo mutilato è il bozzetto preparatorio del Cristo musilato che lui ha dipinto in carcere dove è stato rinchiuso per anni per il suo impegno politico e civile Ben Shan sapete ebreo sebbene convertito di cui abbiamo bellissimi quadri politici come quelli che vedete soprattutto sulla destra sapete Ben Shan è stato autore di Sacco in Vanzetti uno dei pochi pittori che hanno celebrato la morte l'omicidio di Sacco in Vanzetti pochi anni dopo del loro accaduto non mi fermo sull'arte italiana che è ovviamente magnifica e strepitosa vi faccio vedere solo questa magnifica madonna di Lucio Fontana nella sua antica destinazione milanese dove è rimasta fino al 73 è arrivata nera di smog e noi siamo riusciti a pulirla recentemente Capogrossi tutta l'arte aniconica che è molto importante vi faccio vedere questo Artung che è magnifico o questo Antai che è spettacolare che è un tema molto caro a Paolo VI soprattutto per la perché non è il soggetto che fa sacra un'opera tutti i grandi artisti scrive Paolo VI sono profondamente religiosi è impossibile che non lo siano nel senso che il grande capolavoro contiene in sé un mistero che attiene all'oltre e all'altrove e quello lo rende un'opera religiosa dunque anche tutta l'arte astratta tutta l'arte aniconica ci pone davanti al rapporto fra noi e l'altro fra l'io e la natura fra lo spazionoto e l'ignoto con degli strumenti che sono specifici dell'arte e che sono specifici della poesia della comunicazione visiva e dunque vanno ascoltati non è mai il soggetto che fa grande un'opera questo lo diceva già Michelangelo quando gli chiedevano se pittura o scultura chi era superiore tra pittura e scultura e lui diceva nessuna delle due c'è una buona opera d'arte e una pessima opera d'arte e qui questa è la sostanza un attimo solo queste sono tutte opere entrate nel 73 quindi fanno parte del nucleo originario delle 900 opere del 73 e la cosa diciamo che io noto ogni volta diciamo che vedo e mi incontro con questo primo nucleo diciamo delle opere della collezione e che mi sorprende anche se non mi dovrei sorprendere voglio dire visto che è il Vaticano però è la universalità cioè nel senso che sono opere che vanno dall'Oriente all'America Latina all'Occidente e quindi questa universalità intesa non solo in senso geografico ma anche proprio come pensiero secondo me quindi questa è una cosa che mi veniva da dire invece per passare alla seconda parte prima di passare all'altra parte diciamo mi farebbe piacere se a te va di se ci chiarissi un attimo una cosa che è molto peculiare della collezione nel senso che esistono i musei vaticani esiste la collezione ed esiste il di Castero quindi ci sono tre entità diciamo e quindi per capire come poi dopo la collezione si rapporta a queste istituzioni se ci dici proprio in due parole come funziona per poi passare alla persona che è stata per te un interlocutore importante è più semplice la collezione fa parte dei musei vaticani che noi pronunciamo al plurale perché sono sette musei diversi che vanno da quello egizio a quello etrusco a quello classico fino a quello contemporaneo ognuno ha il suo staff scientifico e il suo gruppo di lavoro i musei vaticani dipendono dallo stato della città del Vaticano quindi dal governatorato cioè che è la parte statale del Vaticano sotto il quale ci sono molti altri servizi oltre ai musei poi il Vaticano cioè la Santa Sede ha dei rappresentanti diplomatici cioè dei ministeri che agiscono in dialogo con tutto il mondo diciamo universale con cui il Vaticano ha rapporti uno di questi di Casteri è il nuovo di Castero per la cultura e l'educazione un di Castero è una congregazione cioè un organo che può legiferare e che ha anche un portafoglio quindi è un ministero diciamo a tutti gli effetti non ci sono rapporti diretti fra i musei e il di Castero perché il di Castero è sotto direttamente la figura del Papa quindi fa parte della Santa Sede voi dovete immaginarvi due grandi fiumi ovviamente diciamo monarca assoluto è il Pontefice da cui poi si dirama lo Stato Vaticano e la Santa Sede che sono due elementi e quindi i di Casteri della cultura dell'economia della sanità di tutto quello che loro che si possiede afferiscono la Santa Sede però c'è un dialogo diciamo che molto stretto allora molto stretto come sempre come ricordavi anche prima grazie poi alle persone il di Castero della cultura è stato non a caso fondato i cosiddetti figli delle persone e quindi è sempre esistito però i legami fra noi e loro sono nati solo quando è arrivato qualcuno che ha voluto che la cultura passasse anche dal dialogo con questa collezione e con i musei e quindi stiamo parlando di una persona che per te è stata molto importante perché avete collaborato per tantissimi anni stiamo parlando del cardinale Gianfranco Ravasi con cui avete fatto delle cose stupendevoli e meravigliose e quindi io mi taccio di nuovo e raccontaci no no veramente beh diciamo infatti si capisce anche dai sorrisoni guardate che sorrisoni meravigliose io sono grata al cardinale Ravasi per il coinvolgimento la fiducia ma soprattutto per anche qui per la sfida voi sapete insomma è un uomo troppo noto per aver bisogno di presentazioni il prefetto dell'Ambrosiana per tantissimi anni un biblista un esperto di aramaico un antichista ecco certo non un uomo come dire avvezzo alla carta contemporanea eppure bisogna occuparsi del nostro tempo mi sono dimenticata di dire una cosa che credo sia importante invece perché in un saggio che lui ha scritto sulla bellezza lui cita proprio Henry Miller che è proprio il contrario di quello che potrebbe essere un santuomo assolutamente che dice esattamente questo cioè dice la religione e l'arte non servono a niente se non a farsi le domande di senso e quindi il fatto che il cardinale il cardinale mi metto così il cardinale Gianfranco Ravasi citasse Henry Miller proprio per dire qual è secondo lui il significato dell'arte fa capire poi dopo di che cosa è stato capace di fare pur essendo un teologo dico io assolutamente assolutamente sapete che Henry Miller si era scritto Dio sotto le scarpe per calpestarlo per calpestarlo bene per essere sicuro di calpestare il concetto e Ravasi ne ha aperte moltissime di sfide non solo nei confronti dell'arte contemporanea lui ha fondato un organo che ancora oggi è attivo di cui lui rimane presidente qualità di fondatore sebbene sia in pensione perché ha compiuto 80 anni l'anno scorso che è il cortile dei gentili il cortile dei gentili era il luogo che che divideva i fedeli ebrei da coloro che non erano ebrei e non potevano entrare nel tempio e teneva fuori la parte non sacra non religiosa del del tempio ecco questo cortile è il luogo d'incontro però è anche il luogo dove transitavano tutti sia fedeli che infedeli o agnostici o non credenti o credenti in altre cose il cortile dei gentili è proprio uno spazio uno spazio uno spazio intellettuale uno spazio uno spazio dove le donne avevano accesso per il cardinale ravatti sì certo no 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 sottolineiamola questa cosa perché non è scontata pensavo al cortile di gentilità sì comunque no potevano entrare non dentro al tempio ma nel cortile sì e che è proprio veramente uno spazio uno spazio dove può accadere dove è accaduto moltissimo dove si è parlato di scienza si è parlato di etica si è parlato di bioetica si è parlato di fine vita e ovviamente anche di cultura anche di astrologia di astrofisica dei temi più diversi e più disparati perché l'incontro delle diverse posizioni di fede o di altre fedi o non di fede quindi civili devono continuamente confrontarsi su qualunque tema e su qualunque settore dunque coraggiosissimo in questo ma anche nell'arte insieme abbiamo fatto delle cose fondamentali fra cui soprattutto la Biennale di Venezia è stato un lunghissimo percorso noi abbiamo cominciato a lavorare alla possibilità del primo padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia nel 2009 eravamo sicuri di farcela nel 2011 nel 2011 non ce l'abbiamo fatta e non ce l'abbiamo fatta per le grandi difficoltà interne vi racconto questo dettaglio la collezione che viene ceduta ai musei vaticani nel 1973 entra le opere che la compongono entrano come collezione privata di Paolo VI e questo Paolo VI lo fa per proteggere la sua iniziativa perché come dice nel 73 io sapevo che i nemici più pericolosi erano all'interno quindi le opere sono sue e lui le dona blinda questo le difficoltà ci sono sempre e la fatica che la cultura che la chiesa ha nei confronti dell'arte contemporanea è stata molto molto sensibile anche nei confronti della nostra partecipazione alla Biennale nel 2011 non ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo poi fatta nel 2013 la scelta del cardinale è stata dare sempre dei temi agli artisti che poi noi abbiamo selezionato e che quindi si sono occupati di vere tematiche il primo padiglione si intitolava in principio diviso in creazione decreazione quindi la storia e poi ricreazione nuova umanità la speranza gli artisti che abbiamo scelto sono stati studio azzurro questa sala la rivedrete perché quest'opera è in esposizione permanente in collezione ci si è venuto qualche anno perché tecnologicamente è molto complessa è una sala interattiva dedicata appunto alla creazione dove il regno delle piante il regno degli animali è raccontato da dei sordomuti mentre il regno dell'uomo sono dei carcerati del carcere di bollate che dicono solo il loro nome e il nome dei loro progenitori genitori e qualcuno anche i nonni e pochissimi accenni alle loro famiglie e noi entriamo nell'opera mettendo la nostra mano sotto la luce mettendo la nostra mano parte un battito cardiaco e la nostra mano viene fotografata immessa in questo elemento circolare universale che ha dato origine alla loro opera Joseph Kudelka con una serie straordinaria di grandi distruzioni distruzioni della storia del tempo le fotografie non sono appoggiate per terra sono appese lui ha voluto che fossero appese a 5-6 cm da terra e quindi percettivamente voi le vedevate appoggiate ma in realtà sono appese e sono appese inclinate è stato un sistema molto complesso con alcune opere inedite come questa serie su Beirut e Gerusalemme che ha realizzato appositamente per il padiglione e poi il vostro e anche nostro cioè nostro e anche vostro Lawrence Carroll è un artista meraviglioso con cui abbiamo lavorato benissimo perché c'è stata l'elettrospettiva proprio recentissima poi subito dopo il padiglione ha allestito una parte di questa sala anche qui nelle sale del madre e non tutto perché l'opera che vedete in alto a sinistra è un'opera congelata completamente surgelata al piano superiore del nostro padiglione dove oggi c'è la Turchia avevamo messo degli enormi gruppi frigo che si collegavano con una controparete al basso lui ha realizzato una tela che è stata messa in questa teca messa in verticale e surgelata una settimana prima per tutta la settimana e poi messa in orizzontale con un sistema piuttosto complesso e mantenuta surgelata nel corso dei sette mesi ma ovviamente a seconda delle ore del giorno ogni tanto cominciava a scongelarsi ogni tanto si ricongelava poi Venezia sapete con l'umidità eccetera ed era veramente l'essenza di questa ricreazione perché Lorenz diceva nel surgelamento c'è una sospensione di vita ma se io la scongelo posso in qualche modo ricostruirla o restituirla all'oggetto insieme alle altre opere che erano veramente magnifiche e poi il secondo padiglione questo caso in principio la parola si fece carne questo è Giovanni 16 è la storia l'immissione nella storia abbiamo scelto tre artisti molto più giovani e soprattutto due donne che mancavano all'altro padiglione un'artista colombiana Monica Bravo che ha lavorato proprio sulla parola quello che voi vedete su quegli vetri è il Vangelo di Giovanni in greco perché è la lingua originaria del Vangelo di Giovanni che si sbriciola e si ricompone su questi pannelli colorati che vengono proprio dalla sua tradizione diciamo etnica di cultura etnica a cui appartiene è un'opera un'installazione piuttosto complessa e il Pida Azi Vasileva che ha fatto questa grande agora questa grande piazza l'elemento al centro che voi vedete sono stomaci di bue essiccati sono quasi una rosa del deserto è un'opera meravigliosa quelli filamenti di quell'albero sono degli lunghissimi intestini di pecore e quella tenda parte proprio dalla tenda dalla tenda dell'alleanza dalla prima ecclesia che è il luogo di ritrovo non è il luogo della messa è il luogo di noi l'ecclesia siamo noi siamo ognuno di noi e sono invece realizzati quelli sono stomaci di maiale lavati trattati plastificati sono proprio cusciti se lo toccavate era plastica sentivate la plastica assolutamente privi di odore ma tutti elementi di scarto lei lavorava adesso lavora con elementi con gli alberi soprattutto ma lavorava su elementi organici un'artista interessantissima e poi Mario Macilao un artista africano del Mozambico Mario aveva solo 30 anni all'epoca è stato un ragazzo di strada quindi lui sapeva prima di essere poi preso da una Ollus che lo ha fatto studiare lui ha imparato a leggere a scrivere a 15 anni in quel contestualmente anche ha avuto la sua prima macchina fotografica e quindi lui ha saputo entrare nei posti dove questi bambini si rifugiano sono terrorizzati sono bambini che vanno dagli 8 ai 12 anni circa e si nascondono in posti dove gli adulti non vanno non arrivano sono dimaputo della sua capitale del suo paese e che è stato un lavoro assolutamente magnifico e molto molto intenso devo dire una bellissima opera non so cosa c'era dopo prima di arrivare al nostro nuovo interlocutore però volevo dire una cosa che come al solito mi stanno molto al cuore i miei figli mi prendono sempre in giro perché poi dopo questo tema per me è un tema molto cosciente e cioè le donne nel senso che ci sono sempre più donne all'interno del Vaticano all'interno dei dicasteri no dei dicasteri no ma delle varie funzioni e proprio recentemente se non erro proprio a ottobre se non ricordo male è stata nominata la professoressa Antonella Sciarrone che viene dalla Università Cattolica ma come sottosegretario al dicastero della cultura e dell'educazione ma la cosa molto interessante è che questo dicastero della cultura e dell'educazione lei invece ha una provenienza di economista e soprattutto di donna che si occupa di finanza quindi è un'organizzativa è una però la cosa centrale è che ci sono sempre più donne all'interno del diciamo della della chiesa quindi anche se diciamo non si dice o non si dice ufficialmente dal punto di vista teologico non si cambiano le situazioni però come dato di fatto stanno cambiando o no è una domanda una domanda a cui io non so ne posso rispondere però sicuramente diciamo quello che mi sembra possiamo registrare insomma a cui stiamo assistendo è che le figure femminili entrano anche negli organi istituzionali della chiesa diciamo i musei vaticani ad esempio essendo un luogo tecnico fra virgolette è sempre stato un luogo pieno di colleghe anche perché in genere gli storici dell'arte e gli archeologi insomma diciamo di professione è una professione che le donne diciamo fanno molto e in più come ben sapete ma non come sottosegretario questo mi sembra una cosa un po' nuova ricordiamo che da sei anni abbiamo un direttore Barbara Iatta che è stata sicuramente la prima direttrice donna dei musei e che quindi diciamo una grandissima una grandissima come dire riconoscimento professionale e anche tipologico però la cosa molto importante è che nei dicasteri nei luoghi precipi del lavoro della chiesa entrano figure femminili e spesso anche figure femminili laiche come è il caso di Antonella e quindi non necessariamente religiose il governatorato per lo stato della città del Vaticano ha il segretario generale che è il numero due dopo il cardinale presidente che è sua Raffaella Petrini che è una religiosa esperta in economia una donna giovane di grandissima qualità e è la prima volta che una religiosa occupa un ruolo di questo piano all'interno diciamo dell'organo più importante dello stato vaticano stesso dicasi appunto per la scelta di Tolentino come suo nuovo sottosegretario e questo mi sembra un segno molto importante molto importante soprattutto quando questo avviene in nome della qualità della competenza e che quindi è un riconoscimento prima di tutto delle capacità e non della tipologia ecco questo che forse si può dire all'interno del mondo precipo della chiesa della chiesa cattolica è che il rigore di una traduzione così ferrea fa sì che la scelta sia guidata sempre molto dalle competenze e non da aggiustamenti che diciamo sono estranei alla cultura e quindi non rientrano nel problema dell'equaterosa a cui assistiamo grazie per questo perché insomma apre un po' di speranze di porte secondo me perché di donne competenti ce ne sono abbastanza soprattutto fra le religiose che sono veramente spesso donne straordinarie e diciamo meritano forse di essere ascoltate di più ed è una cosa che non si sa mai grazie per aver detto questa cosa perché è una cosa che non si conosce quindi grazie per averlo detto arriviamo invece al nuovo prefetto il cardinale Rosetto Lentino Mendoza anche lui fine teologo ma la cosa che a me interessa dire sottolineare moltissimo è che è un poeta è un poeta è innanzitutto un poeta e una delle cose per esempio che mi ha colpito ho letto vari libri sui ma una cosa che mi ha colpito particolarmente che ha detto in questo libro io mi dimentico sempre i titoli e i nomi è una grammatica semplice dell'uomo e che lui a un certo punto dice che gli intellettuali non si sono resi conto che una chiave di comprensione fondamentale del malessere politico culturale e sociale che ha fatto ammalare i paesi è la scomparsa delle lucciole cioè lo trovo una cosa magnifica la scomparsa delle lucciole che in realtà è la visione di un poeta ma molto pertinente a mio avviso allora è molto presto per dirlo naturalmente ma tu vedi un cambiamento di percorso o vedi un cambiamento com'è la collaborazione con questo nuovo prefetto diciamo presto perché come leggete è stato nominato solo a settembre scorso quindi si è insediato da pochissimo e soprattutto come avete capito e dal pontificio consiglio della cultura siamo passati a un dicastero per la cultura e l'educazione l'educazione cattolica vuol dire cercare di comprendere gestire conoscere tutti i licei e le università cattoliche nel pianeta è una cosa sconfinata parliamo di quasi tutte istituzioni private che non hanno spesso alcuna relazione con la chiesa reale e quindi sarà una sfida complicatissima che richiederà tempo ovviamente per dare dei risultati e poter capire anche quali problematiche far emergere sicuramente però la competenza e la sensibilità culturale del cardinal Tolentino è rara io lo conosco da quando è arrivato a Roma tre anni fa quattro anni fa e veramente è sì sicuramente un poeta raffinatissimo lui è di lingua portoghese quindi scrive in portoghese diciamo tradotto in varie lingue è tradotto diciamo con una qualità altalenante poco in Italia adesso lo stanno traducendo meglio usciranno fra breve delle raccolte sicuramente di livello maggiore è un uomo di una cultura raffinatissima ma soprattutto di una cultura che è sempre all'interno dell'uomo è sempre con l'uomo e sembra quasi di accompagnarlo trovate anche oltre i suoi libri magnifici trovate anche ad esempio online in una sua conferenza fatta proprio alla cattolica un paio d'anni fa mi sembra nel 21 gli hanno dato il tema gli avevano affidato il tema insegnare vuol dire camminare e lui inverte i termini e fa una 40-30 minuti di conferenza sul camminare cosa vuol dire camminare ma camminare camminare noi siamo i lemiali terrestri camminiamo un passo dopo un passo mi invito ad ascoltarla in questo magnifico italiano di chi lo studia perché lo parla perché ogni parola ha un peso che è tipico dei poeti è tipico di chi parla una lingua non propria che veramente vi dà la misura a questo si aggiunge un fatto e cioè che a differenza del cardinal Ravasi il cardinal Tolentino è un grandissimo conoscitore di arte contemporanea molto vicino a moltissimi artisti contemporanei un uomo raffinatissimo posso dire una cosa che lui è stato quello che ha aperto la biblioteca vaticana all'arte contemporanea assolutamente dove abbiamo fatto anche la mostra di Maria Lai a cui tu facevi facilità mi sembra una cosa straordinaria si poi la biblioteca che non è un posto dove fare le mostre infatti è anche complicatissimo entrare però sono piccole cose ma ha creato uno spazio di dialogo fra il patrimonio della biblioteca e gli artisti contemporanei che diciamo che si occupano di carta di scrittura di libro e io gli ho proposto anche se lei era morta non era viva insomma però mi sembrava che libri e Maria Lai fossero troppo troppo vicini per non essere motivo di questo confronto e la mostra è stata un momento bellissimo anche perché la scelta dei colleghi del patrimonio della biblioteca è stato aperto ulteriori mondi e io sono sicura che Maria l'avrebbe amata moltissimo perché è stata veramente un continuo rimbalzo di idee di suggestioni di confronti di visioni veramente magnifica e quindi questa sua conoscenza questa sua sensibilità fa sì che il di Castero parteciperà molto probabilmente ma insomma penso che sia una notizia che si possa dare ufficialmente al Biennale Architettura di quest'anno del 2023 coinvolgendo Alvaro Sisa questa è una notizione sì penso diciamo dovremmo riuscirci coinvolgendo Alvaro Sisa che come sapete è un architetto portoghese molto amico di è quello che ha fatto il madre esatto e lo so che conoscete anche per questo lo conosciamo bene che come sapete compie 90 anni quest'anno insieme anche probabilmente a Pistoletto che forse coinvolgiamo nella stessa cosa adesso vediamo non avremo più il padiglione ci appoggeremo in altri spazi ci sarà un curatore che è un caro amico di Sisa insomma diciamo un primo passo poi ovviamente stiamo pensando poi alla Biennale Arte solo Sisa o con Soto de Mura che loro lavorano tra l'altro Soto de Mura è il genere no 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 ok e quindi una notiziona sì sì e quindi sicuramente lui se ne vorrà occupare è molto attento ai 50 anni per la collezione sta diciamo vuole organizzare delle cose molto importanti che adesso vediamo se riusciamo a fare e quindi sicuramente è una persona che darà molto spazio al tema della contemporaneità in tutte le sue forme sia letterarie sia artistiche per riprendere la parola contemporaneità noi abbiamo parlato del nucleo originario diciamo della collezione ci racconti un poco come si è evoluto che cosa è successo quali sono stati i driver proprio di questa la collezione cambia 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 molto come dicevi tu all'inizio una piccola cosa che non vi ho detto all'inizio che dovevo dire è che Nicole c'è dal 2000 quindi sono un po' di anni che se ne occupa quindi esatto il modo in cui è cambiata la collezione è il modo anche di Nicole questo lo dobbiamo tutti i musei Angela lo sa sono specchio ma infatti quello che diciamo mi sembra di aver imparato da questo mestiere anche che prima ho fatto alla galleria nazionale d'arte moderna e altri musei è che la cosa più importante di un museo sono i depositi perché quello che voi vedete è diciamo figlio nipote comunque cugino dei tempi dei momenti storici degli interessi ma anche proprio dei gusti di chi lo fa ma i depositi sono la vera ricchezza di un museo perché consentiranno a chi verrà di capire cosa è stato e di immaginarlo completamente diverso qui c'è un fattore diciamo che si unisce che si aggiunge cioè quello che come ricordava Monica in apertura Paolo VI ha pensato questa collezione non come una collezione chiusa tutte le collezioni che vanno sotto i nomi dei pontefici il gregoriano itrusco il gregoriano profano il gregoriano egizio faccio gli esempi più eclatanti il pio clementino vanno sotto i nomi dei pontefici che li hanno creati ma anche perché sono chiusi sotto i loro pontificati cioè quelle opere le collezioni non si sono ingrandite non si sono modificate più sono rimaste come loro l'hanno pensate e questa collezione non porta il nome di Paolo VI e lui ha voluto che l'ha affidata ai musei dicendo e ora dovete avere continuare ad avere rapporti col presente anche perché noi il passato lo leggiamo attraverso il nostro tempo e se noi non capiamo quanto il nostro tempo incide sul nostro modo anche di conoscere cioè quanto guida la nostra conoscenza del passato non riusciremo mai a immaginarlo e a trasformarlo rimarremo sempre come dire ancorati attraverso dei cliché e l'arte è il grande stimolo la grande frusta l'arte le arti per continuare a mantenere come dire intenzione il sistema conoscitivo che appunto non è fatto di risposte ma di formulazione di domande quindi questa collezione è continuata a cambiare nei 27 anni prima di me è continuata a cambiare ovviamente in questi 23 anni meno perché non c'era né tu né ravasi quindi meno andiamo avanti un po' è cambiata e cerca di cambiare almeno quello che ho cercato fare nella sua essenza e anche nella sua forma che è molto importante qui vi faccio vedere una stanzona che come era allestita un tempo di questo simpatico colore beige scuro che in realtà è diventata tutta un'altra cosa perché io ho scoperto che in collezione avevo un patrimonio che non era mai stato visto da nessuno e che gioceva lì dal 1975 il patrimonio riguarda un grandissimo artista francese Henri Matisse soprattutto una cappella che lui ha fatto alla fine della sua vita tra il 49 e il 51 uno a Vans questi sono gli interni magnifici della cappella il vecchio maestro ha progettato tutto come qualcuno di voi saprà dall'architettura alle vetrate ai pannelli in ceramica all'altare ai candelieri al crocefisso agli abiti da cerimonia dei preti all'acqua santiera alle porte alla porta del confessionale tutto ha fatto tutto lui grazie a un'amicizia questa è una storia bellissima ma va raccontata in un altro momento e noi di questa cappella abbiamo le tre grandi bozzette sono i papiers de coupé delle vetrate qui ne vedete soltanto due quelle dell'abside quelle del coro e una identica per la navata e abbiamo l'ultimo cartone uno a uno stiamo parlando di quella di destra che voi vedete è 6 metri è tutto alto 6 metri 6 metri per 6 di larghezza e questa madonna è alta 3,33 per 6 metri di larghezza questa è la carta da spolvero che lui usava per la matita e la china era talmente grande che lui si è spostato dalla casa che aveva al grande atelier a Nizza dove aveva i soffitti che gli consentivano di attaccare la carta dove appeccicare i suoi papiers de coupé a disegnare con una lunga canna perché poi non riusciva a stare in piedi perché era stato operato di cancro allo stomaco quindi era diciamo oltre che anziano anche piuttosto malato e quindi in questa voi non la vedete ma sulla destra è tagliato col taglierino perché c'era la porta del bagno lui la appiccica e poi taglia le cose che gli servono e questa doveva essere l'ultima l'ultima versione poi quando va a dipingere sulle ceramiche bianche già invetriate la fa e non gli piace la fa cancellare e la fa di getto e quella che ha in cappella non ha bozzetto preparatorio ce ne sono vari uno a uno perché Matisse diceva non puoi immaginare un'opera di sei metri su un foglio a quattro l'opera di sei metri va immaginata di sei metri bisogna lavorare in proporzione in misura assolutamente uno a uno ecco quella sala che voi avete visto è stata trasformata in questa magnifica sala dove è rimasta solo la Madonna di Fontana che c'era prima adesso questa è una foto deformata vi invito tutti a vederla questo ad esempio è stata una soluzione non solo per la grandezza ma perché dietro il pannello in fondo a destra è nascosta la macchina di climatizzazione perché questa è papier de coupe incollata su carta da spolvero incollata su carta craft incollata su tela sono tutti oggetti che reagiscono alla temperatura all'umidità in modo diverso la sala si è dovuta a climatizzare temperatura umidità relativa e temperatura colore per le opere quindi è stato un lavoro complessissimo e soprattutto abbiamo dovuto trovare degli sponsor che ce la pagassero o questa sala che aveva tutta una diciamo lunga processione dedicata al concilio vaticano secondo di Lello Scorzelli che io ho donato che ho trasferito non donato non è roba mia è rimasta dei musei ma proprio all'atrio dell'aula Paolo VI dove sta bene perché tutti la possono vedere anche perché ricorda il concilio vaticano secondo e questa è diventata la sala studio azzurro che avete visto visto prima e che vi posso assicurare che in un ambiente diciamo di un pubblico che ha una grandissima necessità di arrivare in Sistina quando visitano la connessione non sono ancora arrivate in Sistina io è diciamo è stata una vera sfida questa perché ho detto bah perché ci vuole tempo a visitare questa sala che è di una poeticità rara perché voi toccate i personaggi e li toccate a lungo io su questo discussi con Paolo Rosa perché ci vogliono sette secondi abbiamo dovuto mettere un cartello in sei lingue perché se fai così come fai con i nostri smartphone loro si ritirano sei secondi sono tanti provate a contarli e loro sono più grandi di noi quindi tu gli metti la mano sul ventre lui voleva che quella mano di Dio e di Adamo di Michelangelo fosse il nostro gesto siamo anche un po' lontani quindi dobbiamo proprio tirare stendere il nostro braccio e loro cominciano a parlare e cominciano a raccontare tra l'altro il racconto è magnifico io l'ho saputo abbiamo avuto la traduzione esatta dei sordomuti grazie alle nostre guide sorde che parlano e ce l'hanno detto cosa dicevano perché tutti lo capite benissimo poi c'è tutto un audio che vi aiuta le piante gli animali però loro dicono delle cose specifiche che noi non capiamo perché ci manca un pezzo siamo noi che non abbiamo la loro lingua e raccontano delle cose magnifiche ecco la grande sfida è che questa sala è così la gente non è ancora arrivata al Sistina e non esce da lì cioè ci spendono anche dieci minuti che è un tempo voi calcolate che è davanti alla pinacoteca quindi Giotto, Raffaello eccetera il transito su ogni opera è inferiore a un secondo inferiore a un secondo la sosta media quando le persone escono se tu gli fai vedere tre quadri fra cui uno dei musei e Botticelli degli Uffizi dicono che hanno visto Botticelli cioè la capacità di questo è uno studio del CNR di Roma del professor Antinucci non è nostro è pubblicato dalla terza sono studi molto interessanti del movimento del pubblico nei nostri musei e quindi confondono ciò che conoscono visivamente con ciò che non hanno visto realmente perché non l'hanno guardato e quindi avere le persone che si fermano qua a 5-6 minuti è una cosa impressionante e poi adesso è veramente ah no qui c'è aspetta vado avanti però che forse è meglio questa Angela Iodice forse la riconosce ma adesso la vede e poi altre occasioni ovviamente sono tantissimi i modi in cui noi abbiamo ampliato questa collezione ovviamente anche da singoli che ora vedrete una occasione è stata la mostra per i 60 anni di Benedetto non i 60 anni di età i 60 anni di sacerdozio di Benedetto XVI abbiamo chiamato 60 artisti contemporanei nell'aula Paolo VI e molti di loro qui lo vedete con Ela Natsui con Azuma con Paladino quella è un'opera di Cunellis e molti di loro ci hanno lasciato in dono le loro opere che hanno ingrandito la collezione qui Paladino lo vedete c'è Eroli eccetera eccetera e molte sono state vere committenze qui doppiamente ringrazio Angela Iodice in nome di Mimmo e Francesco ma di molti altri artisti fra cui un altro napoletano Antonio Biasiucci la collezione non aveva un fondo di fotografia contemporanea e io ho pensato per un microsecondo di comprare qualcosa ho capito che non sarei arrivata da nessuna parte e ho pensato di diventare un committente cioè di chiamare degli artisti a lavorare sui musei cioè a rendere i musei oggetto del loro sguardo mi sono appoggiata a una grandissima studiosa ed esperta Alessandra Mauro direttrice editoriale di Contrasto insieme abbiamo selezionato temi e artisti da Massimo Siragusa che ha lavorato questa è una luce finta perché è irreale lui scatta sovraesposto e sottoesposto e poi modula una luce che non c'è nei musei che ha lavorato negli spazi completamente vuoti Alain Flescher che ha fatto queste sono foto da tre metri di base che ha lavorato su questo spazio infinito che non si chiude mai che non è mai risolto delle gallerie dei musei Mimmo che ha fatto questa magnifica galleria di ritratti all'interno all'interno del Pio Clementino del Gregoriano Profano assistito da Barbara che l'ha seguito costantemente Peter Bialobreschi un fotografo tedesco che ha lavorato sul corpo esterno l'architettura esterna ci siamo arrampicati sulla cupola di San Pietro sulla torre della radio e lui scatta solo all'alba e al tramonto quindi è stata anche un'organizzazione piuttosto si più che altro era sempre scortato da qualcuno il nostro Antonio Biasiucci che è entrato in un nostro deposito storico è un deposito il deposito delle corazze è un deposito che è stato allestito nel Settecento dove ci sono solo frammenti lui è stato difficile farlo uscire lui si è chiuso là dentro e fotografava a luce spenta era sempre accompagnato da un custode che ha dormito per ore perché seduto nel silenzio più assoluto dopo una settimana gli ho detto Antonio forse basta non lo so lui prendeva sceglieva e in un video che abbiamo fatto bellissimo dice proprio ogni mattina entravo e loro mi chiamavano e dicevano scegli me scegli me perché sono tutti frammenti di teste pezzi di teste cose non esposte in questo ambiente magnifico che appunto ripeto è un deposito storico quindi noi non modifichiamo più Rinko Kawaushi l'unica donna giapponese che ha fatto un lavoro sul tempo sul passaggio sulle ombre sui graffi sui depositi le macchie i riflessi la prima foto che ha fatto a un certo punto l'ho vista precipitare e ha fatto tutta una stresciata per terra che è diventata una foto magnifica sono stampe fra l'altro eccezionali donna giapponese accompagnata dal marito che stava sempre due passi indietro di lei sempre e a cui lei passava la macchina fotografica così non neanche si voltava interessante Francesco che ha fatto un lavoro sui visitatori in linea con altri lavori fatti già al prado queste persone sono tutte state fermate hanno firmato una liberatoria le è stato pegato il progetto e sono stati messi da Francesco in posa quindi quello che voi vedete è uno studio del visitatore che è in effigie prima ancora che diventi diciamo diventi una fotografia alcune di queste sono piccole altre sono giganti i due signori che vedete al centro è una foto di due metri e mezzo quindi più grande più grande del vero Martin Parr che ovviamente si è infilato nei musei nei periodi più affollati è venuto appositamente sia a Pasqua che a Ferragosto infilandosi con una noscialanza assoluta in qualunque tipo di gruppo facendo 20 foto magnifiche e Bill Armstrong l'unico che è entrato in Cappella Sistina è un artista americano che ovviamente queste non sono foto sono scatti fotografici che lui scatta mosso proprio muovendo la macchina vengono stampati ritagliati ricolorati e rifotografati quindi non sono però riconoscete bene Michelangelo che lui ha contrapposto ad un altro mosaico di nove foto realizzato sulle teste dei quattrocentisti ed è un bellissimo dialogo fra veramente post-warroll veramente interessantissimo e poi singoli artisti con cui noi abbiamo veicolato delle donazioni questa è un'opera di Roberto Almagno fatta appositamente per la parete della galleria dove si trova di Gabriele Basilico qui sto cercando di ampliarla grazie alla vedova ho avuto in dono una serie magnifica delle sue rifacimenti di Piranesi delle vedute di Roma di Piranesi una committenza che ebbe dalla fondazione Cini nel 2010 di Guido Strazza qui vi mostro la grande aura Guido Strazza è un artista toscano di nascita romano di adozione ha compiuto cento anni il 21 dicembre ha fatto la sua conferenza due settimane fa lucidissimo magnifico e soprattutto io che parlo troppo in tre minuti ha detto tutto perché a cento anni non c'è più bisogno di dire niente e tre minuti sono più che sufficienti per lui sì oh questo è un artista italo-brasiliano Sidi Valfila questa è un'opera esposta alla biennale del 2017 a cui io gli ho fatto una grande corte si intitola Golgota sono otto tele mi è piaciuto molto ecco vi faccio vedere questo allestimento che invece è nuovo sotto la Santa Caterina di Pinturicchio Santa Caterina sta disputando proprio sulla Trinità mi sembrava molto bello questo dialogo a distanza oh Folon questa è una donazione recentissima è una serie dedicata alla Genesi e questo fermo e basta abbiamo finito allora no la cosa che volevo dire no 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 non è finito non la lasciamo così la cosa siamo giusti abbiamo giusto il tempo per dire altre due cose importanti allora abbiamo visto che c'è una grande relazione con gli artisti con gli artisti contemporanei la novità quindi non è solo il cammino fatto con gli artisti che sono entrati come novità nella collezione sono entrate anche dei mezzi artistici nuovi perché prima la fotografia non c'era e adesso c'è prima le carte non c'erano e adesso ci sono non le abbiamo proprio nominate ma è un altro mondo ma ci sono troppi mondi diciamo da indagare quindi ci vorrebbero altro che tre minuti quindi però c'è anche un'ulteriore cosa che mi piace mettere in evidenza della collezione che quindi i fili sono tantissimi cioè il filo è il filo diretto con gli artisti è il filo diretto con le strutture è il filo diretto con i mezzi artistici ma è anche importantissimo il filo diretto con la ricerca quindi tu hai saltato e ritorniamo indietro nel senso che il titolo della nostra della nostra serata il filo di Arianna ha un senso che non è solo il senso che vi ho detto io ma soprattutto perché Arianna mostra nella ricerca che è stata fatta da Nicole ma non solo da Nicole ed è questo è bello fa capire le potenzialità enormi che si aprono con l'arte contemporanea quando si mette in dialogo con altro e quindi raccontaci diciamo eri dimenticata pensavo no 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 più che altro era nell'economia complessiva scusate io ho un treno alle otto e mezzo è solo questo il motivo sarei veramente mi fermerei tutta la sera volentierissimo ma non c'è un treno dopo e quindi era l'ultimo possibile e ovviamente diciamo sì la collezione si amplia per moltissime ragioni e quello che poi e seguendo moltissime strade il rapporto con gli artisti con i collezionisti con gli eredi con i familiari sono ovviamente fondamentali in più ovviamente io sono anche attenta a rafforzare io non ho potuto fare un discorso coerente sulla collezione ci sono dei nuclei più forti dei nuclei più deboli dei nuclei che hanno bisogno di essere rafforzati è stata pensata in nove anni diciamo i normali musei di arte contemporanea hanno tutti ormai un secolo abbondante e quindi noi compiamo 50 anni adesso quindi insomma diciamo il tempo e siamo non un museo specialistico siamo all'interno di un museo generalista dove dagli egizi arriviamo fino a oggi quindi diciamo sono tutte specificità in più siamo un museo però molto particolare cioè quello che spero sia arrivato è che non è soltanto un insieme di opere di arte contemporanea cioè non è un museo che noi possiamo mettere a paragone con gli altri musei di arte contemporanea ha un'altra finalità e ogni opera è collegata alle altre non solo per serie di capolavori o 1901 2 3 4 o il movimento l'avanguardia ma è collegata per altre ragioni anche per questo spesso nell'allestimento io non 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 sono troppo cronologica perché la forza del tema spesso è molto più potente che non l'aspetto storico artistico più banale quindi quello che ad esempio anche facciamo per ampliarla è rafforzare anche aspetti più documentari che serviranno agli studiosi di domani che magari sono opere che tu non puoi mettere mai in allestimento citavi la carta per dire che è un materiale molto delicato che ovviamente non può andare in allestimento matisse avete visto in matisse è una sala senza luce esterna sapete che luce e carta sono due parole che non possono andare nella stessa frase ma e quindi si ingrandisce anche su altre ragioni e molte di queste ragioni sono anche i nostri temi di ricerca un museo è anche un luogo di ricerca forse è soprattutto un luogo di ricerca dove noi studiamo ci confrontiamo con altre istituzioni con università con istituti di cultura con altri musei e si fanno lavori che non diventano mostre non diventano libri divulgativi diventano atti di convegni testi scientifici numeri di riviste specializzate e che vanno a come dire sostenere poi spesso il lavoro che poi magari diventerà un giorno una mostra un'occasione un evento ma dietro cioè dei lavori preparatori ovviamente come sempre pluriennali se non di più e uno di questi temi che appunto che io ho detto a Monica in realtà dopo che lei mi ha detto il titolo quindi non è stato questo ispirare il titolo ma il titolo è di Monica pienamente mi ha detto guarda l'ho chiamato il filo di Arianna non so perché ho detto guarda ti mando un lavoro che io ho fatto sul mito di Arianna insieme allo UAB di Venezia la Warburg House di Hamburgo il Warburg Institute di Londra l'università di Barcellona siamo un gruppo piuttosto piuttosto grande intorno al mito al mito di Arianna ovviamente dall'antichità qui vedete l'Arianna dei musei vaticani che è una copia ellenistica di un originale andato perduto probabilmente anche bronzio di cui la versione degli uffizi è probabilmente più antica ed anche di fattura molto elevata ma la versione degli uffizi è solo il busto non ha altro non ha la testa che invece noi possediamo cioè la sua testa è da un calco della nostra fino alla sua storia nel novecento e nel novecento Arianna qui vedete degli esempi minimi il Matisse il Nudo Blu del 1908 il De Chirico che usa la nostra Arianna dei musei vaticani in moltissimi suoi quadri e Warhol che cita De Chirico come sapete De Chirico e Warhol si sono conosciuti e Warhol ha molto amato De Chirico questo personaggio bizzarro ormai ormai anziano ma che era molto particolare erano due personaggi in modo diverso in due culture ma erano due personaggi pubblici in realtà però Arianna nel novecento ha il mito di Arianna ha un ruolo fondamentale nel teatro nella poesia nella poesia teatrale oltre che nella riflessione artistica che è molto capillare e riprende proprio questo questo tema della complessità del femminile cioè di una figura femminile che non è totalmente positiva che non è vittima anzi spesso è carnefice lei che dà il filo a Perseo per uscire dal labirinto dove lui andrà a uccidere il fratellastro di Arianna cioè il minotauro che sarà stato un mostro ma sempre un fratellastro era e in che soffre dell'abbandono e al tempo stesso ha un riscatto assoluto nella sua divinizzazione Arianna però Nicola scusami se ti interrompo perché bellissima la storia mi piace ti ascolterei fino a domani però abbiamo pochissimo tempo io il motivo per cui volevo diciamo chiederti di questa cosa è uno il dialogo tra le opere che iniziano proprio dai Muzzi ai Vaticani ma anche l'immagine di dopo se non ti dispiace sì sì quella è proprio un'immagine esatto perché che cosa succede qua questa è proprio un'immagine di lavoro qui siamo ad Hamburgo siamo studiosi di diversa tipologia di diversa competenza ci sono filologi greci archeologi filosofi storici dell'arte moderna medievale moderna e contemporanea e qui stiamo proprio cercando di capire quali sono sulla linea veramente warburgiana cercando di capire quali sono le influenze e le interferenze tra modelli fra loro molto distanti dicevamo prima le opere ci sopravvivono e quindi si parlano si parlano volontariamente o involontariamente e diciamo alla fine di quella specifica seminario ma insomma ne abbiamo fatti tantissimi abbiamo creato la nostra tavola della memoria il nostro collage di opere di storie diverse un lavoro molto complesso che è confluito in un numero monografico della rivista Engram dell'università Uav di Venezia che ha una copertina alla fine di tutto l'enormità di materiale è stata scelta non per mia imposizione ma la copertina della rivista è stata scelta proprio la foto di Francesco Iodice perché questa fanciulla in posa che fa un gesto uguale e contrario vedete che Arianna ha un braccio piegato sotto la testa a sostegno del suo sonno probabilmente un sonno dopo la ricerca di Perseo perché lei fa tutta l'isola lei è a Naxos è rimasta sola sapete anche che il nostro piantare in asso viene da lasciata a Naxos è una traslitterazione una perdita filologica quindi non c'entra niente l'asso delle carte ma è riferita proprio al mito di Arianna e lei invece ce l'ha chiuso ce l'ha sui capelli l'altra mano ce l'ha sulla sulla coscia e in questa costruzione gestita dall'artista perché è Francesco che l'ha messa così quindi pensata si crea quasi come dire un dialogo il mito che torna sul presente e si ripropone sul presente più che dialogo mi piace usare la parola filo di nuovo assolutamente di questo filo assoluto fra l'altro perché così mette in connessione Maria Lai con cui chiudiamo sì ti chiedo però prima di mettere la mia Maria Lai perché secondo me Maria Lai forse è la risposta alle domande che ti sto per fare cioè uno di che cosa sei particolarmente orgogliosa di questi anni alla collezione e poi cosa ti auguri per la collezione io mi sento sempre che ho fatto poco male e dovevo fare qualcosa di diverso quindi non mi sento mai però sono molto molto orgogliosa del fatto che continuo a stupirmi che mi appassiono che mi piace che è una cosa straordinaria avere rapporti con gli artisti potersi occupare di opere che stanno nascendo sono nate da poco poterli stare vicino poterli ascoltare poter conoscere menti creative e toccare l'immaginazione la sfida il coraggio io spesso diciamo incontriamo anche ragazzi che fanno dell'accademia veramente ammiro profondamente generazioni di giovani diciottenni ventenni venticinquenni che vorrebbero fare gli artisti perché è un mestiere durissimo difficile che mette ogni volta in gioco te tutto te ti mette a nudo insieme poi non importa se gli altri non se ne accorgono ma tu ogni volta ti togli la pelle e questo diciamo è un rischio che uno storico può non prendersi diciamo è confortevole diciamo la posizione dello storico quale io sono che come avete capito sono più una storica che non un critico insomma non sono un critico comunque militante facendo un lavoro diverso e quindi la sorpresa lo stupore è sicuramente la cosa di cui sono più felice e che mi auguro soprattutto per il futuro personale e di questa collezione cioè che non smetta di crescere di cambiare e di negare quello che io ho fatto se qualcosa ho fatto e se qualche traccia ho lasciato cioè di riuscire a ribaltarlo a modificarlo di dimostrare che ci sono strade alternative di non prendere mai le strade già percorse come strade utili in quanto consolidate ma di riuscire a vederne i nati negativi o i limiti per poter poi andare avanti raccontaci le ultime due opere questo era perché lei mi ha detto guarda io aprirei con un libro di Maria Lai allora ho detto bene io forse chiudo con Maria che è stata una donna coraggiosa testarda e che quando aveva diciamo Roma insomma in definitiva abbastanza sui piedi era della scuderia della migliore galleria romana all'inizio degli anni 60 se ne va e torna in Sardegna e torna a Cardedu cioè non è che torna in Sardegna torna in un paese che è meno di un paese e rimane lì e non se ne va mai più non lavora per sette anni e poi ricomincia a fare le mostre solo lì e poi fa della sua casa il luogo di incontro con gli altri artisti questa donna che è rimasta fanciulla a suo modo crea nel 2000 nel 2008 poi a molte versioni questo invito a tavola con cui noi abbiamo chiuso la mostra in biblioteca questa è la sala Barberini quelli che intravedete sullo sfondo sono gli scaffali della biblioteca Barberini sistemati in un ambiente costruito apposta sono vuoti sono vuoti perché sono in legno sono del 600 sono fuori norma ovviamente rispetto al rapporto con la carta ma sono magnifici a Urbano Ottavo Barberini che le ha fatti che le ha fatti costruire e gli scaffali li abbiamo lasciati vuoti c'è un tavolo e su questo tavolo ci sono elementi in terracotta libri aperti con i fili che vedete che sono tracciati e dei pani quello è un pane tipico sardo dei pani gonfi tondi dove Maria ha impresso una fogliolina d'ulivo sull'oro perché la cultura l'arte le sfide l'immaginazione con cui noi costruiamo collettività è una tavola imbandita noi siamo tutti intorno a questo tavolo tutti ci possiamo cibare di quelle parole che non sono parole ma sono tutte le parole del mondo di quel pane che tutti con cui tutti noi possiamo condividere e solo così potremmo continuare a costruire comunità grazie mille Nicole Forti veramente sei stata generosa di te generosa del lavoro che fai e veramente ci hai dato uno sguardo nuovo sulla collezione grazie tantissimo grazie 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 grazie